Bari Ciao Bari, buon venerdì 16 ottobre a tutti ben ritrovati su radiobari.calt io sono Barbara Cirillo e vostra compagnia ogni giorno per tenervi aggiornati sui tantissimi appuntamenti ormai di questo weekend che è arrivato sarà un weekend all'insegna della musica con Music Levante, ne parliamo proprio questa mattina della sua seconda edizione insieme agli organizzatori lo posso dire, io do il benvenuto a Luigi Maiurano ad Antonello Corriero, buongiorno benvenuti innanzitutto e allora iniziamo a parlare iniziamo a spiegare che cos'è Music Levante è un evento che ne ho nato e spegne soltanto due candeline quest'anno infatti ne festeggiamo e siamo contenti con voi perché è un evento in terra di Bari volutamente ideato con la scusa della musica per aggruppare tutti quanti in un evento che possa essere importante dove ognuno di noi può trovare quello che gli serve il cibo della mente quotidiano lo strumento musicale il fumetto che gli permette di sognare un romanzo sempre a sfondo musicale un pezzo di uteria importante un disco che non si trova insomma musica a 360 gradi quest'anno poi ci sarete voi che allieterete l'evento e noi siamo veramente felici e allora spieghiamo un po' diciamo innanzitutto la location le date le due date sono 17 e 18 ottobre quindi domani e dopodomani esatto al Nicolaus Bari dove ci sarà l'apertura al pubblico dalle 17 e 30 fino alle 20 mentre il giorno dopo la domenica dalle 10 alle 19 sono previsti anche delle esibizioni e delle conferenze tant'è che avremo in anteprima l'autore della storia del rock a fumetti in anteprima poi un trio anteprima nazionale esatto un trio dove si vede per la prima volta il violino applicato alla musica jazz una conferenza sugli strumenti antichi strumenti barocchi a cura di una lutaia in Bari poi una cover band ufficiale di che accompagnava nei concerti Pino Pino Daniele sì infatti i suoi la show live band in questione scusami Antonello si freggia del fatto di avere nei suoi nei suoi ranghi sporadicamente quando ciò è possibile in uno zurzolo Tony Esposito e Gio Moruso che erano poi lo satura cardine dei primi album di Pino Daniele quindi non sappiamo chi porteranno tra questi però contiamo di farvi una bella sorpresa riguardo a quello che ha detto Antonello per quanto riguarda la storia del rock a fumetti è una storia del rock che è stata pubblicata in tutto il mondo in tutte le lingue ed è un autore pudiese di Taranto per la precisione Enzo Lizzi che nessuno è profeta in patria quindi in tutto il mondo sanno chi è e quindi noi gli diamo la giusta vetrina che merita finalmente torna un po' a casa e presenta il suo lavoro a casa sì noi siamo con Enzo avevamo la stessa la stessa passione per la musica che siamo amici di infanzia solo che nessuno di noi immaginava immaginavo all'epoca che un giorno saremmo riusciti a diciamo così coronare un pochettino i nostri sogni ancora siamo all'inizio speriamo di poter però insomma ce l'avete fatta perlomeno ad aggrapparvi ai vostri sogni almeno quello il messaggio il messaggio Barbara che è importante che è una bisogna avere i sogni per continuare a vivere vivere bene cercare di di perseguirli non fermarsi mai questa è la dimostrazione e infatti chissà che non avvererete poi in questi in questi due giorni anche i sogni magari di tanti cultori della musica di tanti amanti della musica magari c'è qualcuno che cerca un disco un vinile da anni e lo troverà proprio in music levante chissà che non accada lo speriamo perché anche passando anche se vogliamo sei due giorni in cui si viene e si e si passa una giornata all'insieme con la scusa della musica una giornata in cui si vedono le mirabilie possiamo parlare delle delle ultime gli ultimi trovati tecnologici saranno i marchi storici che hanno fatto la storia della musica Moog ci saranno della luteria importante per ciò che riguarda anche gli strumenti elettrici insomma per addetti ai lavori ma anche per appassionati ecco mettiamola così veramente ci sarà la musica a 360 gradi volevo fare un appunto purtroppo abbiamo constatato che il locale non ha risposto bene a questa questa manifestazione nel senso che abbiamo delle ditte dei distributori che vengono da fuori Bari parliamo di Roma Pescara Reggio Emilia Milano Milano Foggia il barese un po' non so nicchia e questo ti dispiace perché abbiamo un bacino di utenza molto ampio abbiamo il conservatorio a Bari il conservatorio di Manopoli oltre che le scuole ad indirizzo musicale quindi ecco questo è un luogo fisico dove fa rincontrare quello che nel termine tecnico si chiama la domanda e la offerta di musica perché la domanda di musica c'è l'offerta noi stiamo cercando di concretizzarla in un posto fisico e far rincontrare tutti questi attori beh qualcuno deve pur farlo insomma bisogna pure iniziare da qualche parte quindi educhiamo anche tutti quanti ecco a vivere la musica ad amare la musica e soprattutto ad apprezzarla perché veramente la musica è un mondo talmente tanto vario talmente tanto vasto che non si finisce mai di scoprire qualcosa di nuovo come poi succede nella vita allora io vi ricordo ancora una volta insieme ai miei ospiti l'appuntamento con Music Levante diciamo che la seconda edizione il Music Levante è un'idea diciamo nata dalla Wood Bass Company Wood Bass Company in collaborazione con la Confartigianato Imprese Bari Allora il Confartigianato come l'anno scorso ha diciamo voluto essere presente e dandoci un aiuto naturalmente mediatico che noi abbiamo apprezzato e Radio Bari pure e Radio Bari ci seguiamo anche noi ovviamente voi siete voi siete i padroni di casa con noi ecco il Music Levante quest'anno e spero che sia l'inizio essendo una seconda edizione l'inizio di una partnership perché si comincia a piccoli passi però voi è come se foste una radio essendo anch'io un ex addetto ai lavori la radio è acquisito nel tempo tantissima la radio della televisione locale è acquisito nel tempo tantissima importanza perché veramente con lei il termometro la situazione sociale e così culturale anche del posto e se lo fate con passione non è importante che ci siano uno due tre quattro radioascoltatori o telespettatori è importante perché siete come una radio internazionale una televisione internazionale perché con la con la passione si fa tutto e si raggiunge prima o poi si raggiunge l'obiettivo quindi complimenti a voi e noi siamo contenti di avervi con noi e benvenuti a Music Levante e noi siamo contenti di far parte di questa grande famiglia allora Music Levante 17-18 ottobre vi ricordo le date al Nicolaus Hotel di Bari domani dalle 17.30 alle 21.30 invece domenica dalle 10 alle 19 buona musica a tutti buon Music Levante bocca al lupo a voi grazie mille per essere stati qui con me questa mattina io restituisco la linea alla regia di Telebari ringraziando Federico Semplice ma io il buon Gianluigi Maggi che è tornato continuiamo su Radio Bari 88.8 www.radiobari.net ci troviamo tra pochissimo con i tantissimi appuntamenti del questo weekend non potete perderli grazie ancora a voi grazie